L'argomento della ricerca, i nutraceutici possono rallentare la progressione del morbo di Parkinson. Entriamo in Embase. Proveremo a svolgere questa ricerca secondo diverse modalità andando man mano dalla massima precisione ad aumentare invece il richiamo. Partiamo utilizzando l'M3. Cerchiamo la malattia di Parkinson, dopodiché utilizziamo la funzione Take this query to disease search. Questo permette di utilizzare i disease subheadings, vale a dire degli aspetti particolari del termine propri delle patologie. Noi infatti prenderemo il Parkinson sotto l'aspetto della gestione della malattia e della prevenzione. Lanciamo la ricerca. Torniamo nell'M3 e cerchiamo questa volta i nutraceutici. Trattandosi di un termine legato alla farmacologia abbiamo la possibilità di portarlo alla drug search, quindi prendendo solamente i subheadings legati alle sostanze chimiche. Utilizzeremo quindi questo termine sotto l'aspetto della terapia e sotto l'aspetto della farmacologia. Lanciamo anche in questo caso la ricerca in Embase. Possiamo poi prendere queste due ricerche dalla history e combinarle usando l'operatore booleano AND. Otterremo in questo caso una ricerca con sei risultati. Si tratta di un tipo di ricerca con basso richiamo perché trova pochi risultati ma con alta precisione. Possiamo provare una ricerca con un richiamo un po' più alto riducendo un po' la precisione. Ritorniamo in M3. cerchiamo la malattia di Parkinson. In questo caso prenderemo il termine nella sua globalità esplodendolo in modo da includere anche le forme più particolari di Parkinson e lo aggiungiamo alla search box. Anche nel caso dei nutraceutici non esplodiamo il termine perché in questo caso non abbiamo delle categorie più bassi ma non prendiamo degli aspetti particolari. Lo aggiungiamo al search box nella sua interezza. Modifichiamo il booleano da OR a AND e lanciamo la ricerca. I risultati in questo caso sono 81. Abbiamo quindi aumentato di molto il richiamo sicuramente diminuito un po' la precisione. Se è già stata fatta una ricerca in PubMed c'è la possibilità con il filtro source di selezionare soltanto i risultati non contenuti in Medline oppure di inserire degli altri filtri per ridurre la ricerca. Applichiamo ora un terzo approccio che aumenta ancora il richiamo riducendo un po' la precisione ed è quello della ricerca semplice. in questo caso abbiamo 141 risultati. Abbiamo quindi aumentato ulteriormente il richiamo e ridotto un po' la precisione. Possiamo notare come Enbase dia degli strumenti particolari al ricercatore. Una volta aperto un articolo infatti vengono mostrate tutte le sostanze delle quali si parla nell'articolo. Per ciascuna di queste sostanze è possibile il collegamento alla banca dati Reaxis e alla banca dati PubChem in modo da poter ottenere la formula chimica e ulteriori notizie su questa sostanza. Grazie per la visione!